Dopo la città di Agropoli, anche il comune di Capaccio Pestum registra un caso positivo a scuola. Nella serata di ieri, infatti, l'Asla di Salerno ha comunicato che un'alunna della scuola secondaria di primo grado di Capaccio Scalo è risultata positiva al Covid-19. Già da questa mattina insegnanti e compagni di classe stanno effettuando il tampone presso l'usca di Trentinara, restando poi in isolamento per dieci giorni, previsti dal protocollo Asla prima del nuovo tampone di controllo. Gli ambienti scolastici sono stati già prontamente sanificati, ci tengono a precisare da Palazzo di Città. Secondo caso positivo, anche nel comune di Piaggine, a comunicarlo questa mattina il sindaco Guglielmo Vairo, ne è stato appena comunicata la positività di un tampone molecolare effettuato da un contatto diretto del caso positivo del 2 febbraio 2021. Si sta ricostruendo la catena dei contatti per monitorare il contagio e predisporre isolamento e tampone. Date le circostanze, l'amministrazione sta organizzando uno screening di massa che, considerando i tempi di incubazione, avverrà non prima di martedì. Due contagi anche a Cannolonga e due nuovi casi di positività già sottoposti ad isolamento anche nel comune costiero di Monte Corice. Il numero complessivo dei positivi attuali è pari a 7. Nella città di Roccadaspide sono invece 8 i cittadini positivi totali.